Da grandi storie derivano grandi potenzialità. O muori da bel fumetto o vivi abbastanza a lungo da diventare un cinecomic. Scegliete voi da che parte stare, se con la casa delle idee o con la distinta concorrenza, però sappiate che in questo video ci sarà spazio per tutti, perché vi parleremo dei 20 migliori cinecomic targati Marvel e DC. Ovviamente per dare spazio a più film possibile abbiamo cercato di dare varietà alla nostra lista, per cui per ogni saga abbiamo scelto pochi rappresentanti. E allora armati di artigli, scudi e mantelli, partiamo scoprendo quando il cinema e il fumetto hanno fatto un grande gioco di squadra. Il primo grande salto, il primo balzo, il primo volo. Impossibile non partire dal mitico Superman di Richard Donner, nel 1978 il più iconico dei supereroi, spesso considerato ostico da raccontare in quanto troppo perfetto e quindi lontano dal lettore spettatore, trova la sua perfetta incarnazione nel grande e compianto Christopher Reeve. La presenza scenica dell'attore è perfetta per carisma e sintesi tra eleganza e possanza. Riguardandolo oggi, Superman non ha perso un briciolo del suo fascino, grazie alla sua America di provincia, alla colonna sonora ispirata del grande John Williams e alla spettacolarità di alcune sequenze. Un'opera assolutamente seminale, le radici del nostro senso di meraviglia affondano qui. Ovviamente anche il primo meraviglioso Batman del 1989 meriterebbe un posto in classifica, ma siccome vi abbiamo promesso varietà abbiamo deciso di premiare una sola perla bartoniana. Se abbiamo scelto Batman il ritorno è per l'audace coraggio con cui Tim Burton impone la sua anarchica visione autoriale del mondo all'interno di un genere solitamente codificato come quello supereroistico. Nel suo secondo film dedicato al Cavaliere Oscuro, Burton trova il coraggio di mettere Batman quasi in disparte, per far specchiare Bruce Wayne nelle anime in pena di una Gotham oscura. I cattivi sono i veri protagonisti di un cinecomic dedicato ai reietti, ai freaks e agli strambi, di cui a ben pensarci forse fa parte lo stesso uomo pipistrello. Anche in questo caso avremmo potuto inserire il notevole secondo capitolo della saga mutante, avviata da un ispirato Bryan Singer. Eppure il primo X-Men del 2000 rappresenta l'inizio di qualcosa, una diga nella storia del cinema che segna un prima e un dopo. Due anni prima c'era stato Blade, è vero, ma è con X-Men che inizia un vero e proprio movimento cinematografico. È grazie a questo cinecomic corale che il genere dimostra tutto il suo potenziale. Singer riesce a conciliare approfondimento psicologico e azione, sguardo collettivo e dimensione intima, dramma e grande intrattenimento. Il suo predecessore aveva posto le basi per un cinecomic duro, sporco, dominato dalla figura carismatica di Blade. Il predatore di vampiri dannato, segnato dal destino beffardo di cacciare la sua stessa razza, trova in Wesley Snipes la sua degna controparte sullo schermo. Però è con l'arrivo di Guillermo del Toro in cabina di regia che l'immaginario di Blade si espande e si arricchisce, acquistando anche più spessore narrativo. Senza rinunciare a scene d'azione sempre efficaci, il regista messicano ha grande cura per il sottobosco urbano di una città perduta, abitata da creature in eterno conflitto tra loro. Il risultato è un cinecomic affilato e lucente, come la spada del suo protagonista. Per noi Hulk è un piccolo caso cinematografico, un film sottovalutato che all'epoca non sfondò lo schermo come era lecito aspettarsi. Un film che forse era troppo avanti per gli albori del cinecomic, troppo sperimentale, troppo cervellotico, troppo ardito per un genere ancora acerbo. Perché l'Hulk di Ang Lee non è soltanto un enorme mostro verde dalla forza sovraumana, ma è soprattutto un figlio ferito e traumatizzato, un corpo inerme e innocente utilizzato come esperimento da un padre fuori di senno, con tutto il pesante fardello da portarsi dentro e dietro per tutta la vita. Questo ci fa capire come il punto di vista del regista taiwanese fosse rivoluzionario, persino anarchico agli occhi di alcuni. Ali non interessava l'aspettativa di un pubblico pronto a divertirsi con la forza bruta di Hulk, ma sondare i conflitti psicologici di un individuo segnato per sempre da un passato tragico, complesso e visionario Hulk preferisce la mente ai muscoli, antepone la psiche dell'uomo allo spettacolo distruttivo dell'eroe verde, e noi lo amiamo proprio per questo. La bellissima sensazione di sfogliare un film, la gradevole illusione di vedere un fumetto spalmato sul grande schermo, in perfetto equilibrio tra divertimento e riflessione, tra un mondo ingenuo che si sta sgretolando sotto i piedi e uno più complesso che si sta aprendo sulla tua testa. Venire a patti con quello che non sei più, accettare quello che non sei ancora. Insomma, ogni volta che si scomoda la definizione miglior cinecomic di sempre, è difficile. Che il nostro senso di ragno non pizzichi sempre sullo stesso meraviglioso film. Quello girato da un Sam Raimi in stato di grazia, capace di regalare a Peter Parker la sua trasposizione definitiva, quel film passato alla storia, come lo splendido Spider-Man 2. Col senno di poi è facile dare le cose per scontate, ma nel caso di Iron Man sarebbe ingrato. Oggi il Marvel Cinematic Universe è un colosso assoluto dell'intrattenimento, ma nel 2008 le cose erano molto diverse. Lo studio stava lanciando la sua folle sfida alle grandi major e lo ha fatto con un film dedicato a un supereroe considerato di seconda fascia, lontano anni luce dalla notorietà popolare di Spider-Man e degli X-Men. Senza dimenticare l'azzardo di aver dato le chiavi del film in mano a un personaggio controverso come Robert Downey Jr. Il risultato è una simbiosi perfetta tra un attore rinato e un Tony Stark in forma smagliante. Un personaggio carismatico e istrionico, capace di plasmare ogni minuto del film attraverso la sua personalità. Ironia brillante, ritmo, sana passione per lo spettacolo. Se il Marvel Cinematic Universe è diventato un colosso, il merito è soprattutto di questo solido primo mattone, rigorosamente fatto di ferro. Un film su Batman senza Batman nel titolo. Prima, potente, fondamentale, dichiarazione di intenti di un cinecomic sontuoso. Dopo aver ispezionato il trauma nel cuore di Bruce Wayne nel bellissimo Batman Begins, Christopher Nolan si dedica all'icona di Batman e al suo effettivo ruolo all'interno dell'assetto sociopolitico di Gotham. Riluttante e schivo, il Batman di Christian Bale gestisce il fardello di un simbolo ingombrante che influisce sulla sua vita privata in maniera impietosa. Attraverso l'arte del compromesso e la sottile differenza tra giusto e necessario, il Cavaliere Oscuro ha costruito un cinecomic sofisticato, epico e filosofico, quando contrappone a Batman l'entità caotica di Joker, parassita che sfida l'eroe sul piano psicologico e persino mediatico. Un film indimenticabile ed emozionante, reso immortale dalla performance di un Heath Ledger che ha abbracciato un'anima maledetta. Lo smile non ha più niente da ridere, sangue rosso scorre sull'icona sorridente. Si apre così il film Watchmen, con la caduta di un sogno, con l'ottimismo sconfitto, con il luminoso giallo che si arrende al buio. Zack Snyder, il regista che molti amano odiare, prende uno dei fumetti più complessi e disturbanti di sempre e lo sintetizza, ne stirpa il senso, lo altera laddove è necessario, e vede quello che vuole nella sua macchia di Rorschach. Ogni tanto deraglia, tradisce, esaspera, ma lo fa con coraggio, perché c'è un cuore in questo Watchmen. Per una volta, il regista innamorato dei corpi degli eroi lascia respirare anche l'ambientazione, calando così i suoi personaggi dentro un mondo fetido. Per fortuna, anche Watchmen, che all'epoca non ebbe un grande successo, è stato rivalutato col tempo, come se il film avesse lo stesso destino dei suoi eroi, quello di essere condannati a rimanere ai margini, sconfitti, lontani dal cuore e dalla stima della gente. Sempre fuori posto, fuori tempo e forse troppo in anticipo, per essere compresi davvero. E se un ragazzino si mettesse in testa la folla idea di diventare un supereroe, quali sarebbero le vere conseguenze della sua coraggiosa scelta? Denti spezzati, ossa rotte e tanto, tanto sangue. Rispettando, pur mitigandolo, lo stile crudo e disincantato del fumetto firmato Mark Miller e disegnato da John Romita Jr., Kikas prende a calci qualsiasi ideale legato ai supereroi, per calarci in una realtà sporca e dura come la pietra. Trascinante, folle e attraversato da uno spirito pulp, Kikas resta una delle trasposizioni meglio riuscite dalla carta al grande schermo. Il primo Assemble non si scorda mai. Adesso ci sembra quasi scontato, ma otto anni fa mettere insieme una riunione di supereroi iconici talmente ben organizzata, ovvero con singoli film a loro dedicati a precedere il tutto, non lo era affatto. Nel 2012 Avengers non fu solo un film, fu un evento, il risultato perfetto di una programmazione ben congegnata. Azione, humor ed epica che si sposano a meraviglia, un villain finalmente affascinante e soprattutto una sceneggiatura in cui ogni personaggio esprime se stesso attraverso il proprio registro. La retorica di Cap, l'ironia pungente di Stark, l'epica fuori luogo di Thor e il disagio di Banner. Forse il vero superpotere di Avengers non è solo nei duelli e negli scontri roboanti, ma nelle parole. A cosa serve davvero uno scudo? A proteggere o a nascondere? Sul ritmo di un perfetto action movie moderno, ben miscelato con una spy story dal gusto classico, Capitan America The Winter Soldier punta il dito contro il sistema americano. Con una storia impregnata di disillusione e autocritica, il film dei fratelli russo mette in scena una lucida riflessione sul lato oscuro del mondo digitale, in cui presunte libertà vengono barattate con il controllo di spazi, dati e privacy. Ancorato ai valori del passato, Steve Rogers rappresenta l'americano disincantato, nostalgico di un mondo andato molto più semplice di questo. Nonostante l'inverno del titolo però, per il personaggio di Capitan America questo è il film del disgelo. Ibernato a comprimario senza molto carisma nei primi film, grazie a The Winter Soldier il personaggio acquista dignità e fascino, elevandosi a uno dei leader, dei Vendicatori. Nota di merito per le sequenze action, dinamiche, fisiche, solide, a tratti impreziosita da sequenze stealth di memoria videoludica. La musica come collante, un Walkman come simbolo di un ricordo commovente, la colonna sonora come invito a lasciarsi andare e scatenarsi assieme a un gruppo di scapestrati a cui è impossibile non volere bene. Partito in sordina, considerato che Star-Lord, Gamora e compagni non erano affatto conosciuti come i loro colleghi Vendicatori agli occhi del grande pubblico, Guardiani della Galassia è stata la più grande scommessa del Marvel Cinematic Universe. Una scommessa vinta alla grande da un James Gunn capace di sposare a meraviglia lo spirito sovversivo e ironico di questi outsider, personaggi ai margini che da strani diventano subito speciali. Attraverso dei dialoghi esilaranti, Guardiani della Galassia sarebbe capace di intrattenere anche con i cinque protagonisti chiusi in una stanza a parlare tutto il tempo. Un film bellissimo che ci ricorda ogni volta che noi siamo Groot. Prendete l'eroismo epico e fatelo a pezzi, perché chi si prende troppo sul serio merita di essere preso per i fondelli. Lo sa bene Deadpool, nato nei fumetti come parodia ironica di Spider-Man, è arrivato al cinema pronto a sfondare la quarta parete a suon di ammiccamenti e dialoghi aperti con lo spettatore. Ryan Reynolds finalmente si redime, facendosi perdonare quella brutta copia del personaggio apparsa nel tutt'altro che indimenticabile Wolverine le origini, e dona anime e corpo a un personaggio amatissimo dal pubblico, proprio perché consapevole di essere un personaggio di finzione, pronto a irridere tutto e tutti dall'alto del suo sarcasmo affilato. Prendi un'icona, smontala pezzo per pezzo, rimonte il suo immaginario come solo la fantasia di un bambino capace di fare, e scomponi la personalità di un eroe. Criticalo, analizzalo, studialo, comprendilo, ridi con lui e di lui. Prendi in giro l'atteggiamento borioso di Bruce Wayne, tutte le fissazioni di Batman, il suo rapporto malsano eppure inevitabile con Joker, e metti in scena con il giusto tatto i traumi infantili che tengono ancorati a terra anche chi ha le ali. Il tutto fatto con i Lego, divertendo ed emozionando, per cui vi sfidiamo a non dire che The Lego Batman sia uno tra i migliori cinecomic di sempre. Eroi stanchi, eroi riluttanti, eroi al tramonto. Se una marea di recensioni di Logan contengono l'aggettivo crepuscolare, un motivo ci sarà pure. James Mangold prende per mano Wolverine e lo conduce alla fine del suo viaggio grazie a una polverosa avventura on the road, in cui brutalità e tenerezza si mischiano alla perfezione. Immerso dentro un'atmosfera quasi da western contemporaneo, Logan ci fa avvertire tutta la fatica di un eroe che si trascina verso il suo capolinea. Succede tutto in un film violentissimo, cupo, in cui si teme davvero per le sorti dei protagonisti. L'uomo che ha dato il via all'era d'oro dei cinecomic, dopo 17 anni di battaglie, può finalmente riposare in pace dopo un canto del cigno, assolutamente bellissimo. Questo non è un film, è il Big Bang, l'impatto definitivo di particelle pop che esplodono in un film animato eccezionale. Dentro c'è il divertimento trascinante di un fumetto da cui non riesci a staccare gli occhi, un'animazione calda che non si dimentica del calore del disegno, ovvero l'origine di tutto. Tra ammiccamenti al cinema, ai videogame e al merchandising, scorre una storia densa e ricca, capace di essere ironica ed epica e subito dopo commovente ed esilarante. E questo succede soltanto quando i film sono scritti bene. Spider-Man, un nuovo universo, è una perla assoluta. Un film brillante e divertente, ma anche con una morale adulta, che ci ricorda che l'eroismo spesso ha bisogno di passare dal lutto e dal dolore per abbracciare la sua consapevolezza. Dal 2008 al 2018, dieci anni che si contano sulle dita di due mani. Avengers Infinity War le usa tutte e due, una per accarezzarci, l'altra per prenderci a pugni, una per farci il solletico, l'altra per darci uno schiaffo. Sul suo guanto del cinema infinito, quello che regala continuamente un futuro e si alimenta di aspettative, rimandi e promesse, c'è incastonato di tutto. C'è l'epica fondata sulla sofferenza, sul dolore, sulla vendetta e sull'empatia. C'è l'intrattenimento più puro, che ti sballottola per due ore e dura giusto il tempo di una giostra. C'è il cuore malato di un nemico con una morale tutta sua. E soprattutto c'è la meraviglia di personaggi, ancora incontaminati come Spider-Man, con la sua costante capacità di sorprendersi. Ma la sesta gemma è la più preziosa, ed è la voce, perché il più grande merito del Marvel Cinematic Universe è quello di aver plasmato una voce per ognuno dei personaggi, nessuno escluso. Potresti ascoltare una battuta ad occhi chiusi per riconoscerli, il che significa aver dato loro una personalità ben definita, quella che emerge anche con poche parole, in un film così affollato ma mai caotico. E allora, anche se vi sembrerà assurdo e impopolare, fra Infinity War ed Endgame noi abbiamo scelto il primo. Perché? Perché ci è sembrato assolutamente più equilibrato e scritto meglio, senza lo stratagemma dei viaggi nel tempo, che spesso è soltanto una scorciatoia. Shazam è una specie di Stranger Things dei cinecomic, perché con quel suo retrogusto un po' nostalgico da commedia anni 80-90, prende il fanciullino nascosto dentro ognuno di noi e lo accarezza. Lo mette a sedere e poi gli fa il terzo grado. Sei ancora disposto a credere nell'avventura? Al potere delle storie? Al peso delle parole? All'amicizia? Se sei ancora in grado di meravigliarti, allora ti divertirai. Se la risposta è no, l'adulto che in te penserà soltanto alla ruffianeria, al già visto e al già sentito. Noi facciamo parte della prima scuola di pensiero, perché Shazam ha portato una ventata di aria fresca nel DC Extended Universe, svestendolo finalmente di quella sua aria cupa e seriosa e facendo finalmente divertire il pubblico. Perché piangiamo? Per imparare a rimetterci a ridere. Altri pagliacci volevano soltanto vedere bruciare il mondo, mentre Arthur Fleck quel mondo vorrebbe farlo ridere, vorrebbe scovare negli altri la felicità che gli è stata sempre negata. Altri Joker ci hanno raccontato come si sono fatti quelle cicatrici. Questo Joker ci fa vedere chi gliel'ha fatte. Todd Phillips impara la lezione di Nolan, prende un personaggio dei fumetti e lo cale in un contesto reale, vero, squallido, attuale come non mai in un cinecomic. La sua Gotham City sembra esistere davvero, puzza e fetida, fa schifo. Senza alcun tocco gotico e barocco, questa città assomiglia davvero alla New York di Taxi Driver e infatti Arthur Fleck fa come Travis, si guarda allo specchio e impazzisce. Laddove l'umiliazione del freak è molto classica, forse non tanto coraggiosa, Joker diventa speciale grazie al maestoso attore che lo ha messo in scena. Più che un clown, Joaquin Phoenix sembra un equilibrista, un funambolo rinsecchito e bullizzato, capace di camminare sul filo sospeso tra la felicità e la disgrazia, la speranza e la delusione, l'odio e l'empatia. Insomma, il suo Joker è destinato a lasciare un solco nella storia del cinema. E voi? Che ne pensate della nostra lista? E quali sono i cinecomic DC e Marvel che preferite? Fateci sapere la vostra nei commenti.